...stabile. Informo che la pubblicità dell'audizione odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione sulla web tv della Camera dei Deputati. Segnalo inoltre che in vista dell'audizione nella giornata di ieri è stato inviato via mail a tutti i componenti della Commissione pubblicato su Geocom il libro bianco sull'astensionismo predisposto dalla Commissione di esperti istituita dal Ministro d'Inca coordinata dal Professor Franco Bassanini. Il libro bianco è anche online. Considerato che la Commissione ha a disposizione non più di un'ora e un quarto per svolgere l'audizione avverto che al termine dell'intervento del Ministro d'Inca darò la parola a un deputato per gruppo per non più di tre minuti per ciascun intervento e dopo la replica del Ministro qualora ci fosse ancora tempo potremmo prevedere un altro giro di interventi. Unitamente a tutti i colleghi presenti ringrazio il Ministro d'Inca per la sua presenza e gli do la parola per la sua relazione. Prego. Signor Presidente, colleghi deputati, innanzitutto desidero ringraziare la Commissione dell'invito a svolgere questa audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge concernenti modalità di voto ulteriori rispetto al voto presso il proprio sedio di residenza per le diverse consultazioni elettorali. Questa occasione mi dà anche l'opportunità di presentare il libro bianco intitolato per la partecipazione dei cittadini come ridurre l'astensionismo e favorire la partecipazione al voto. Frutto del lavoro della Commissione di esperti che ho istituito lo scorso dicembre con compiti di studio e consulenza di analisi ed elaborazione di proposte e iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al voto. La Commissione coordinata dal Professor Franco Bassanini è composta da politologi, statistici, costituzionalisti, rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte ed in particolare del Servizio Studi della Camera, cui desidero in questa sede formulare uno speciale ringraziamento nonché del Ministero dell'Interno, del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale e dell'Istat. Allora iniziamo con una parte introduttiva in cui innanzitutto tengo a dare atto alla Commissione affari costituzionali ai presentatori delle numerose proposte di legge in materia di diritto di voto per i fuorisede di aver avuto il merito di porre in primo piano un tema di cruciale importanza per l'attuazione dei nostri principi costituzionali e in definitiva per il rafforzamento delle istituzioni democratiche. Le diverse proposte di legge all'esame della Commissione hanno come oggetto comune l'esercizio del diritto di voto di coloro che si trovano fuori del Comune o della Regione di residenza per ragioni di studio, di lavoro e di cura e affrontano per questo tema di grande rilievo con soluzioni in parte differenti e comunque tutte di notevole interesse. In particolare voglio fare riferimento a queste proposte di legge. La proposta numero l'autocamera 1714 ma di acceccanti altri che prevede il voto per corrispondenza per elezioni politiche europee, il voto nel seggio di domicilio, nel referendum oltre ad una delega al Governo sul voto elettronico in via sperimentale. La proposta di legge autocamera 3003 costa Angiola e altri prevede il voto per corrispondenza per elezioni europee, politica regionale e comunale circoscrizionale. La proposta di legge 3007 Brescia, Baldino e altri che prevede il voto anticipato nelle prefetture per le elezioni regionali e comunali. La proposta di legge 3023 Dettore, Calabria e altri che prevede il voto anticipato nelle prefetture per le elezioni regionali e le elezioni comunali per coloro che sono temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza. Ed infine la proposta di legge 3026 Ungaro, Di Maio e altri che prevede il voto nel seggio del Comune di domicilio per elezioni europee e politiche. Le proposte, a destrazione di quella che prevede il voto nel seggio di domicilio, disciplinano l'invio e lo scrutinio delle schede nel seggio di residenza. Tutte infine prevedono una richiesta o una comunicazione motivata con una legata documentazione. Ovviamente ho citato solo in estrema sintesi le proposte che sono all'esame della Commissione che voi conoscete molto meglio di me. Tengo molto a sottolineare che è proprio dall'attenzione al valore di queste proposte e allo studio delle soluzioni più efficaci e sistematiche per affrontare le domande ad essa sottese, è venuta l'esigenza di un approfondimento che è stato posto a base del lavoro di studio della Commissione di esperti da me istituita. Come vedremo dall'illustrazione sintetica dell'analisi e delle indicazioni del libro bianco, la Commissione ha cercato di fare tesoro delle proposte, delle soluzioni, delle problematiche emerse dal dibattito svoltosi nella Commissione Affari Costituzionali. In Italia la partecipazione al voto è un tempo altissima, è venuta progressivamente declinando ed è cresciuto il fenomeno dell'astensionismo, sintomo e causa, insieme di una progressiva crisi di rappresentatività dell'istituzione. Come noto, siamo passati dal 92,2% di votanti nel 1948 e al 72,9% del 2018 nelle elezioni politiche, Camera dei Diputati. All'europea del 2019 siamo scesi al 56,1% di votanti e alle ultime amministrative al 54%. Questi dati vi sono poi riportati nella figura 1 e 2 di pagina 9 che, attenzione, dimostrano sotto il profilo grafico, come vi è stata una notevole diminuzione, continua diminuzione verso valori che sono quelli che noi oggi vediamo, che sono tra i più bassi in assoluto. Ci tengo moltissimo a questi grafici perché ritengono danno il colpo d'occhio che permette di comprendere in che percorso ci stiamo dirigendo in questo momento. Vediamo, secondo la nostra analisi, un'analisi empirica del fenomeno. Proprio dalla presa d'atto di questi dati muove il lavoro della Commissione Libro Bianco, che contiene un'ampia analisi empirica del fenomeno e delle sue motivazioni, che solo in parte discendono da una deliberata e consapevole scelta degli elettori. Infatti, accanto all'astenzionismo di protesta, stimato in circa il 15-20% degli elettori nelle elezioni europee, in cui l'astenzionismo è stato del 45,5%, o di indifferenza nei confronti della politica, stimato nelle stesse elezioni europee in circa il 10-15% degli elettori, che naturalmente non può essere oggetto delle proposte del Libro Bianco, il lavoro di analisi condotto dalla Commissione è evidenziato una componente molto rilevante di astenzionismo cosiddetto involontario, che noi abbiamo stimato tra il 16 e il 18% degli elettori e che si può vedere nella tabella numero 1, pagina 10. Si tratta, cioè, dell'astenzionismo, quest'ultimo, quello involontario, che non dipende da una decisione di natura politica dell'elettore di non partecipare al voto, ma è dovuta più propriamente alla difficoltà materiale di ricarsi alle urne a causa di impegnamenti di vario genere. Pensiamo, ad esempio, agli anziani con difficoltà motorie, ai malati in casa, alle persone con gravi disabilità o anche agli elettori impossibilitati a votare a causa di soggiorni temporanei fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio, vacanza o per altre ragioni. Ma vediamo meglio alcuni numeri particolarmente significativi che si debbono alla preziosa collaborazione dell'Istat e si sono collegati alla tabella 2, pagina 11. Allora facciamo una sintesi. Sono 4,2 milioni gli anziani over 65 che hanno difficoltà di mobilità e sono pari al 9% degli elettori. Di questi, 2,8 milioni, pari al 6% degli elettori, hanno gravi difficoltà di movimento. Più in generale la classe degli anziani di 75 anni e più, nell'arco di 70 anni, è passata da 1,2 milioni a oltre 7 milioni. Quindi in 70 anni è un passaggio da 1,2 a 7 milioni, con un'incidenza quadriplicata sul totale dei residenti, dal 2,6% del 1952 all'11,9% del 2020. Sono stimati in 4,9 milioni gli elettori che svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio scolastici o universitari in luoghi diversi dalla provincia o città metropolitana di residenza e sono pari al 10% degli elettori. Di questi sono 1,9 milioni, pari al 4% degli elettori, coloro che rientrano nel luogo di residenza attraverso la rete stradale e impiegano per fare questo più di 4 ore tra andata e ritorno. È stimata in circa l'1% la percentuale degli elettori assenti nel luogo di residenza per motivi di turismo e di escursionismo. Infine, l'astenzionismo può essere influenzato dalla frequenza delle occasioni elettorali, un fenomeno in crescita negli ultimi anni. L'incidenza della frequenza delle consultazioni elettorali sulla partecipazione al voto non è quantificabile, ma con esattezza, ma è certo che l'accorpamento delle scadenze elettorali determinerebbe un maggior afflusso alle urne. Ma solo per evidenziare, nel 2014 abbiamo avuto nel nostro Paese, per diversi motivi e in luoghi diversi, 14 appuntamenti elettorali. Il libro bianco deligna conseguentemente una serie di proposte e strumenti utili per agevolare la partecipazione elettorale e per ridurre l'area di astensionismo, in particolare dell'astensionismo involontario, quello appena descritto. Come vedremo, sono proposte tratte per la maggior parte dell'esperienza degli Stati democratici e dunque già sperimentate sul campo. Queste misure hanno la finalità di semplificare e di agevolare la partecipazione di oltre 9 milioni di cittadini che rappresentano circa il 20% del corpo elettorale. Naturalmente una parte di questi elettori si lega ugualmente a votare, facendosi carico delle difficoltà che ho richiamato, nella mobilità per gli anziani, nel rientro per il fuorisede e altro ancora, ma in ogni caso abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per rimuovere ogni ostacolo che possa spingere all'astensione tutti coloro che vogliono esercitare con il voto il loro diritto a partecipare alle scelte democratiche del nostro Paese. Sempre nell'ambito dell'analisi del fenomeno, il libro bianco dedica particolare attenzione al cosiddetto astensionismo apparente che è legato all'incidenza degli elettori iscritti all'aere, come voi sapete, è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, sul calcolo delle percentuali di affluenza al voto. Gli elettori residenti all'estero e iscritti all'aere, infatti, nelle elezioni politiche sono elettori della circoscrizione estero e possono votare per corrispondenza, mentre nelle elezioni regionali e amministrative sono elettori del comune di ultima residenza della famiglia, a volte si tratta dei nonni, se non addirittura dei bisnonni. Per le elezioni politiche, dunque, il tasso di astensionismo si riferisce usualmente ai soli elettori residenti in Italia, mentre per le altre, gli elettori residenti all'estero gonfiano il numero degli elettori complessivi, così che l'astensionismo appare più alto di quello effettivo tra gli elettori residenti in Italia. La divergenza tra astensionismo reale è apparente, è inizio, infatti, dopo l'approvazione nel dicembre del 2001 della legge che regola il voto degli italiani all'estero ed è andando crescendo in relazione progressivo aumento degli elettori iscritti all'aere, che sono passati, un dato molto importante questo, da circa 2,3 milioni nel 2001 a circa 5,5 milioni nel 2020. Questo dato lo vedete all'interno della tabella numero 3 a pagina 12. Per quanto riguarda la dimensione del fenomeno dell'astensionismo apparente, nelle elezioni regionali del 2020 la differenza tra astensionismo apparente e astensionismo reale è risultata pari al 5,5%, unicamente in ragione del conteggio degli iscritti all'aere nel corpo elettorale. Nelle ultime, nelle più recenti elezioni comunali dei capologhi di Regione, la partecipazione reale al voto risulta essere quasi il 5% più alta di quella apparente. La divergenza tra astensionismo reale e apparente è ancora più rilevante in comuni medi, quelli sopra i 15 mila abitanti, dove l'astensionismo apparente supera il 10%, e soprattutto in migliaia, ripeto migliaia, di comuni piccoli sotto i 15 mila abitanti. In questi ultimi, peraltro, l'astensionismo apparente può avere effetti molto importanti, considerato che la legge prevede il quorum del 50% per la validità delle elezioni. Nel caso non infrequente di piccoli comuni, in cui sia stata presentata una sola lista. La proposta, tra l'altro, di legge 3.144, approvata dal Senato della Repubblica nel 26 maggio del 2021, lato Senato 1.196 a Gussori, il cui esame avete concluso il 22 aprile scorso, affronta esattamente questo problema, prevedendo che ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel caso in cui sia stata messa una sola lista, non si tiene conto degli elettori scritti all'anagrafe degli italiani nel centro e all'estero che non hanno votato. Che cosa, diciamo, possiamo fare per promuovere la partecipazione? Allora, come noto, l'astensionismo è un fenomeno che investe anche altre democrazie. basti pensare alle recenti elezioni presidenziali francesi. Proprio in Francia è stato presentato nel dicembre 2021 un rapporto della Missione Informativa dell'Assemblea Nazionale dedicato all'identificazione delle ragioni dell'astensionismo e delle misure per rafforzare la partecipazione elettorale a conferma di quanto il tema sia rileverante nel dibattito pubblico, non soltanto nel nostro Paese. Il libro bianco contiene un'ampia ricognizione internazionale effettuata in un campione di 19 Paesi tesa ad individuare strumenti e misure per rimuovere gli ostacoli della partecipazione al voto intervenendo sui fattori che sono alla base dell'astensionismo involontario. In particolari sono stati analizzati i seguenti profili. Le modalità di voto ulteriori rispetto a quella in presenza presso il seggio del giorno delle elezioni, le liste elettorali, l'attestazione dello status di elettore e la digitalizzazione, le misure di informazione e promozione, gli edifici edibiti a seggio elettorale, i giorni e gli orari di votazione. E in estrema sintesi, dalla ricognizione su cui, fermare stando la disponibilità a rispondere a eventuali quesiti, non mi soffermo oltre, per ragioni di tempo, è emerso che tutti i Paesi considerati, tutti i 19 Paesi, prevedono modalità di votazione che consentono di esercitare il diritto di voto a coloro che sono lontani dal luogo di residenza e hanno comunque difficoltà di recarsi nel giorno delle elezioni al seggio a loro assegnato. Si può vedere questo nella pagina 13, dove vi è un quadro sinottico di tutte le modalità di votazione in questi 19 Paesi. È una tabella estremamente interessante, quella pagina 13. Come vedete, presenta una caratteristica che il nostro Paese non ha un'unica modalità per quanto riguarda il voto. La Commissione ha preso in esame le modalità di voto individuate sulla base dell'esperienza internazionale, valutando la luce della loro compatibilità con i principi di personalità, libertà e segretezza del voto sanciti dalla nostra Costituzione. Vediamo come possiamo andare a semplificare il voto agli elettori attraverso due strumenti molto importanti, da una parte l'Election Pass e dall'altra l'Election Day. La dimensione degli ostacoli da rimuovere e l'ampiezza della platea di elettori che potenzialmente incontra difficoltà nelle case e al seggio richiede l'individuazione di soluzioni di sistema in grado di rispondere efficacemente e con una visione di insieme alle diverse problematiche che sono alla base dell'astenzionismo involontario, fuori sede, anziani con difficoltà a muoversi, malati, persone con disabilità. A tal fine, il Libro Bianco individua due condizioni abilitanti necessarie per introdurre una nuova modalità di voto nel rispetto dei principi costituzionali. In primo luogo, si propone, con il contributo anche dei rappresentanti insieme alla Commissione del Ministero dell'Interno e del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Tradizione Digitale, l'introduzione di un certificato elettorale digitale per tutti i cittadini, in sostituzione delle tessere elettorali cartacee, il cosiddetto Action Pass, utilizzando la tecnologia ampiamente sperimentata con il Green Pass. Il presupposto di questa innovazione è l'integrazione delle liste elettorali nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, l'NPR, già previsto da una disposizione del Cheto Legge semplificazione BIS. L'Action Pass potrà essere scaricato sul proprio smartphone, stampato in forma cartacea come Green Pass, e sarà verificato in tempo reale al sedio attraverso un'apposita app. Una volta utilizzato l'Action Pass, non potrà più essere usato per la stessa votazione presso un altro seggio. Questa innovazione che insieme all'Action Day è il presupposto necessario per le successive proposte che porterò all'attenzione della Commissione potrebbe rendere facilmente praticabile in piena sicurezza nuove modalità di espressione al voto. Essa infine considererebbe una riduzione degli adempimenti burocratici per i cittadini che non dovrebbero più preoccuparsi dello smarrimento della tessera elettorale né procedere a rinnovo in caso di esaurimento. In secondo luogo si propone la concentrazione delle date di voto di diversi tipi di elezione e il cosiddetto Election Day che rappresenta uno strumento essenziale per la prevedibilità e la stessa conoscibilità degli appuntamenti elettorali con l'effetto di favorire la partecipazione dei cittadini al voto. Tale scelta avrebbe inoltre sicuramente gli effetti positivi sulla riduzione dei costi e dei disagi per le famiglie determinati da ripetute e spesso ravvicinate interruzioni delle attività didattiche. Il sistema che si propone potrebbe procedere infatti prevedere infatti due soli appuntamenti elettorali all'anno predeterminati uno in primavera e uno in autunno. La Commissione suggerisce al decisore politico un intervento normativo volto a coordinare a fronte di un quadro fortemente differenziato le tempistiche dell'indizione delle elezioni nei diversi livelli di governo tenendo conto dei vincoli costituzionali o sovranazionali. Questo intervento si fonda sull'introduzione di un principio fondamentale di concentrazione di tutte le scadenze elettorali come principio generale dell'ordinamento giuridico o norma fondamentale di riforma economica e sociale da applicare questa anche a regioni a statuto ordinario. È un obiettivo che vogliamo condividere con le regioni nella certezza che sia comune interesse di tutti quanti i livelli istituzionali concentrare le date degli appuntamenti elettorali. Infine si propone di includere nell'Election Day oltre la domenica la giornata di lunedì fino alle ore 15 per ampliare l'arco orario in cui è possibile arrecarsi al seggio ed evitare possibili attese ai seggi. Adesso vediamo alcune modalità nuove per quanto riguarda la partecipazione e favorire la partecipazione al voto. Il libro bianco propone il voto anticipato presidiato ampiamente sperimentato a livello internazionale. Si tratta di una modalità di espressione del voto che è in grado di intervenire efficacemente sulle cause che sono la base dell'astensionismo involontario. Da un lato essa presenta i vantaggi proprio del voto per corrispondenza in quanto consentirebbe di votare a distanza gli elettori che non possono arrecarsi al proprio seggio nel giorno delle elezioni. Dall'altro trattandosi di una forma di voto presidiata all'interno di una cabina elettorale consente di garantire la personalità libertà e segretezza del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione. Il voto anticipato presidiato consentirebbe infatti all'elettore che prevedesse di avere difficoltà a recarsi al seggio nei giorni previsti per la votazione di poter esercitare il diritto di voto nei giorni precedenti dell'Election Day in qualunque parte del territorio nazionale ma con le garanzie proprie del tradizionale procedimento elettorale. La proposta prevede che il voto avvenga in apposite cabine elettorali collocati presso gli uffici postali che hanno una sufficiente diffusione capillare sul territorio dove ne sono oltre 12.000 sul territorio del nostro paese e eventualmente presso altri uffici pubblici come gli uffici comunali o circoscrizionali. Il presupposto è come detto l'introduzione di un certificato elettorale digitale election pass che consentirebbe di verificare il diritto di voto dell'elettore precludendo la possibilità di un doppio voto. Grazie ad un'apposita app il funzionario incaricato potrà accertare il diritto dell'elettore al voto e identificare il seggio elettorale di residenza dell'interessato. Il seggio elettorale di residenza dell'interessato. La stessa app consentirebbe all'incaricato dell'ufficio abilitato di provvedere seduta stante alla stampa delle schede elettorali associate all'elettore per la specifica tornata elettorale attraverso un'apposita procedura il voto espresso dell'elettore verrebbe inserito in apposite buste e spedito al seggio naturale dell'elettore affrinchè che sia scrutinato insieme agli altri voti espresso in quel seggio. Analogamente perché il sistema possa essere impiegato per tutti gli appuntamenti elettorali inclusi quelli relative alle elezioni amministrative anche dei piccoli comuni e delle elezioni locali occorre che si dia una rigorosa implementazione dell'election day tale per cui tutte le scadenze vengono fatte confluire effettivamente in due date annue. Vanno approfondite infatti le modalità tecniche e procedurale per garantire la massima sicurezza dell'operazione di voto e la non riconoscibilità al momento dello scrutinio delle schede elettorali votate in anticipo attraverso modalità omogenee di stampa delle schede stesse. Tra gli altri aspetti che richiedono un approfondimento vi sono i tempi di spedizione garantiti dalle poste l'individuazione delle giornate in cui votare il numero le caratteristiche requisite e le dotazioni degli uffici coinvolte l'individuazione delle responsabilità dei funzionari incaricate le modalità di controllo da parte dei rappresentanti di lista la possibilità di nominare un delegato del sindaco un presidente di seggio escutatori le modalità di vigilanza e poi altre ancora. Adesso vediamo anche un'altra possibilità che è il voto in un seggio diverso del proprio il giorno dell'elezione è un altro strumento molto importante. Viene proposto sempre nel libro bianco di consentire il voto nel giorno dell'elezione in seggi diversi da quello di appartenenza collocati nella stessa circoscrizione o collegio elettorale. Questa ulteriore modalità di voto sarebbe rivolta ad elettori diversi da quelli che beneficerebbero del voto anticipato presidiato ossia coloro che hanno difficoltà a recarsi a votare non per distanza dai comuni di residenza ma per ragioni diversi. Si pensa ad esempio alla situazione di un anziano temporaneamente ospitato per assistenza a casa dei figli oppure quella di una persona con disabilità il cui seggio naturale presenta barriere architettoniche. Anche in questo caso per essere ammessi al voto sarebbe sufficiente l'esibizione di un certificato elettorale digitale e l'avvenuta votazione verrebbe registrata elettronicamente in modo da impedire la possibilità di un doppio voto. Per agevolare la participazione del voto di persone anziane con disabilità oltre alle due modalità di voto precedentemente illustrate voto anticipato presidiato e voto in un alto seggio nel giorno dell'elezione la Commissione propone l'adozione di una serie di altre misure tra cui la pubblicazione nell'elenco dei seggi privi di barriere architettoniche il rafforzamento e la valorizzazione del servizio di trasporto pubblico gratuito per consentire il raggiungimento del seggio elettorale il potenziamento e la semplificazione del voto a domicilio attualmente limitato ai malati intrasportabili prevedendo nell'estensione a coloro che non sono in grado di leccarsi al seggio sulla base di una certificazione del medico di famiglia si evidenzia riguardo l'importanza di una precisa individuazione della casistica in modo tale che l'accesso a tale facoltà sia consentito agli elettori che ne hanno effettiva necessità l'intervento che si propone dovrebbe inoltre prevedere che la richiesta sia effettuata in modo semplice anche per via telematica sulla base di una certificazione medica lasciata dal medico di base la proposta in esame dovrebbe tener conto dell'esperienza maturata nel corso dell'emergenza pandemica del voto domiciliare degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario per covid-19 ulteriori proposte riguardano chiaramente l'informazione e la comunicazione tra l'altro importantissime ci sono iniziative svolte a promuovere l'individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici che oggi rappresentano l'88% dei seggi ai fini di ospitare seggi elettorali garantendo la continuità dell'attività didattica in misura per la corretta comunicazione dei dati sulla senzionismo apparente arriviamo quindi alle conclusioni purtroppo il tempo a disposizione e la necessità di non sottrarmi ad eventuali quesiti osservazioni che riterrete di formulare non consentono di illustrare ulteriormente analisi proposte contenute nel libro bianco che è in corso di pubblicazione in formato cartaceo ma che è già disponibile nella sua competenza in formato ebook sul sito del Dipartimento per la riforma istituzionale della Presidenza del Consiglio come più volte evidenziato nel libro bianco le analisi e le proposte della Commissione rappresentano un contributo a disposizione del Parlamento e del Governo quello che mi preme sottolineare in conclusione è che è in gioco l'attuazione di fondamentali principi costituzionali ed in particolare del principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione del riconoscimento dei diritti dell'uomo tra i quali i diritti politici sono affermati all'interno dell'articolo 2 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali o dove si svolge la sua personalità che impone corrispondenti doveri sempre l'articolo 2 la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica inoltre del compito dell'istituzione di favorire l'esercizio effettivo dei diritti e l'adempimento dei doveri rimuovendo gli ostacoli all'esercizio sancito dall'articolo 3 in questo appunto è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese il buon funzionamento di una democrazia la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e l'effettiva rappresentatività delle istituzioni stesse dipendono in primo luogo dalla partecipazione dei cittadini alle elezioni e al referendum il confronto con quanto prevedono a riguardo altri importanti Paesi democratici dimostra come già accennato che in Italia si è fatto finora poco per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei cittadini alle elezioni e al referendum per ridurre l'area dell'astensurismo e conseguentemente per dare effettiva attuazione ai principi costituzionali appena ricordati colmare questa lacuna è dunque un obbligo costituzionale da qui discende l'opportunità di provvedere con urgenza pur nel momento nel quale drammatiche emergenze assorbono l'attenzione delle istituzioni e dei loro rappresentanti per queste ragioni auspico il più ampio coinvolgimento del Parlamento la massima sinergia tra governo e Parlamento per realizzare nei tempi che ci concede la legislatura un intervento incisivo di ampio respiro capace anche su questo terreno di avvicinare la politica ai cittadini nel rispetto dei principi costituzionali di personalità e uguaglianza libertà e segretezza del voto da visto per rapporti con il Parlamento con il delegato delle riforme istituzionali sono fortemente impegnato per far procedere rapidamente queste proposte valorizzando al massimo il contributo di tutto il ruolo del Parlamento resto naturalmente a vostra disposizione dei colleghi per ogni approfondimento che riterrete di svolgere in questa sede attraverso eventuali osservazioni o quesiti o anche successivamente nelle forme che riterrete opportune chiaramente ritengo importante per la vostra visione visto che avete insomma nelle vostre mani un testo condiviso la pagina 9 e diciamo che delinea appunto il discendere della partecipazione del voto nel nostro paese abbiamo raggiunto per elezioni politiche punte di cui andare fieri ed orgogliosi negli anni 50 il 93.8% di partecipazione al voto siamo scesi a 72.9% e ricordo con molta diciamo con tristezza diciamo le votazioni per le supplettive a Roma dove addirittura l'astensionismo ha raggiunto e superato l'88% per quanto riguarda il seggio per le supplettive per le votazioni appunto per la Camera dei Deputati quindi ritengo assolutamente importante questo lavoro e vi ringrazio sono a vostra esposizione per le domande grazie Ministro Dincà io ci tengo davvero a ringraziarla in qualità di Presidente della Commissione per l'attenzione che ha voluto rivolgere al lavoro che questa Commissione ha fatto perché come lei sa è da mesi che siamo impegnati su queste proposte di legge abbiamo svolto delle audizioni ci siamo confrontati a più riprese su questi temi e quindi io penso che non sia affatto scontato che il Governo rivolga così tanta attenzione e un approfondimento qualitativamente così importante come questo al lavoro della Commissione non avviene sempre quindi secondo me va sottolineato il fatto che in questo caso sia avvenuto e penso che tutti i suggerimenti contenuti in questo documento possano essere davvero preziosi per il lavoro che andremo a svolgere nelle prossime settimane sul quale io penso dobbiamo essere molto bravi ad agire in maniera molto veloce perché ormai i tempi che diciamo ci dividono dalla fine della legislatura sono molto ristretti quindi abbiamo dieci mesi in tutto se va bene per compiere tutti i passaggi che dobbiamo fare sia alla Camera che al Senato e quindi dovremo essere molto bravi sicuramente tenere in considerazione tutti questi suggerimenti l'election pass l'election day il voto anticipato presidiato il voto in seggio diverso dal proprio ci sarà molto utile per la formulazione di quella che sarà poi la soluzione che condivideremo sia tra di noi che appunto con il governo vorrei soffermarmi su un aspetto che non è stato diciamo approfondito dal dalla sua relazione che io ritengo di attualità e importante allo stesso tempo perché come sapete ieri proprio il governo in Consiglio dei Ministri ha votato un provvedimento che riguarda le elezioni e nel quale all'articolo 6,3 c'è un rinvio della sperimentazione sul voto elettronico che tra l'altro è una delle modalità suggerite da una delle proposte di legge che sono abbinate e che stiamo esaminando quindi io ritengo che tra l'altro ovviamente non è soltanto quello ma è anche un lavoro che questa commissione ha portato avanti in diverse leggi di bilancio finanziando un fondo il governo stesso si era impegnato nella sperimentazione che doveva riguardare in una prima fase una simulazione senza valore legale ci sono i fondi per fare questa sperimentazione anche i suoi riferimenti sia al voto all'estero e a tutte le problematiche che comporta che alla questione Covid-19 che continua comunque a preoccuparci mi lasciano veramente molto molto perplesso rispetto a questa proroga e quindi penso che bisognerà intervenire su quella parte e quindi anche gli spunti contenuti in questo documento potranno essere utili per questo lavoro e chiudo dicendo che un altro problema che ci aiuta a risolvere questo documento è l'accenno finale che si faceva alla questione dei seggi nelle scuole e quindi penso che questo sistema prospettato che coinvolge invece le poste gli uffici comunali circoscrizionali sia la direzione giusta verso la quale si debba andare quindi di nuovo la ringrazio anche in qualità di relatore delle proposte per questo preziosissimo lavoro ora apriamo agli interventi c'è la collega Baldino e poi il collega Di Maio prego sì grazie presidente allora io ringrazio molto il ministro anche per la solerzia con cui è venuto in audizione ad illustrarci il lavoro che è stato fatto dalla commissione mi unisco ministro a rammarico espresso dal presidente Brescia rispetto al rinvio della sperimentazione del voto elettronico perché si trattava di una mera sperimentazione non avente valore legale e quindi è difficilmente comprensibile sono difficilmente comprensibili i motivi che hanno spinto il governo a rinviare di un anno e quindi forse ha già mai l'inizio di questa sperimentazione però a parte questo che insomma è necessario ribadirlo e dirlo perché tanto ci siamo spesi per ottenere questo risultato io veramente voglio ringraziarla da collega ma anche da cittadina non voglio fare demagogia però davvero da ex fuori sede perché tante volte ho sperimentato sulla mia pelle sulla pelle di molti miei colleghi amici parenti conoscenti le difficoltà che hanno attraversato e che spesso hanno spinto la maggior parte delle persone che condividevano con me il percorso da fuori sede ad astenersi quindi io voglio partire proprio dalla fine della sua relazione da questa curva in discesa rispetto alle prime elezioni del 1948 dell'Italia repubblicana e questa curva ci dice tante cose sicuramente ci dà la misura di un sentimento di disaffezione via via crescente dei cittadini nei confronti della politica e dei partiti che verosimilmente non sono stati in grado non sono in grado più non più come prima di interpretare i sentimenti e le esigenze dei cittadini e rispetto a questo nessuna riforma potrà intervenire in maniera compiuta quindi tutti noi ci dobbiamo intervenire ci dobbiamo interrogare sulle cause e sulle sul rimedio e su come rimediare a questa distanza però questo ci dà la misura anche di un dato che la sua commissione ha posto in evidenza e io credo che forse correggetemi se sbaglio colleghi credo che sia la prima volta che un'istituzione assume si prende la briga di fare questo lavoro cioè di analizzare il fenomeno dell'astensionismo in tutti i suoi aspetti e di cercare di proporre delle soluzioni concrete e fattive celeri e mi permetto di dire attuali perché siamo nel 2022 non possiamo più pensare di proporre continuare a proporre a 60 milioni di cittadini che non sono tutti votanti però a tutto il corpo elettorale sono 46 milioni se non sbaglio il corpo elettorale è formato da 46 milioni di cittadini quelle stesse tecniche che gli proponevamo più di 50 anni fa nonostante le difficoltà che loro incontrano per poter assolvere a quello che è un diritto costituzionale un diritto dovere costituzionale quindi bene che finalmente si assuma la responsabilità di analizzare questo fenomeno in tutti i suoi aspetti e di chiarire che questa curva cioè che non basta la solita retorica dei partiti che non rispondono alle esigenze dei cittadini perché questo senz'altro è vero l'ho detto però c'è anche un astensionismo un astensionismo involontario c'è un un elemento di involontarietà di necessità che spinge molti ma soprattutto i più giovani perché dobbiamo dirlo soprattutto i fuorisede che sono tendenzialmente studenti universitari e persone che lavorano fuorisede quindi diciamo che possiamo dire tendenzialmente i più giovani a non partecipare alla vita politica del paese di questo dobbiamo dobbiamo tenerne conto e dobbiamo sicuramente fare uno sforzo in questo scampo lo ultimo di legislatura che rimane per cercare di dare seguito a questo immenso lavoro che ha fatto e per questo ringrazio lei il professor Bassanini la dottoressa De Cesare per dirne solo alcuni e tutti quelli che hanno partecipato al suo lavoro il dottor Caputo il dottor Spadaccini tutti quelli che hanno partecipato alla Commissione perché è stato fatto veramente un lavoro molto importante ora le proposte sono delle proposte che io reputo molto interessanti e credo che siano anche complementari tra di loro cioè non le reputo necessariamente alternative ma complementari sicuramente quella più innovativa è quella che prevede il voto anticipato presidiato e anche le riforme abilitanti sono assolutamente attuali e urgenti è chiaro che è necessario introdurre un nuovo sistema di certificazione elettorale cioè che non possiamo continuare ad insistere semplicemente col certificato cartaceo perché abbiamo sperimentato anche il sistema del Green Pass che insomma tralasciando insomma l'essenza proprio del certificato sanitario che ha diviso il paese però è stato uno strumento che ha funzionato e perché non replicarlo perché non farete solo di questa esperienza per replicarlo quindi allo stesso modo l'Election Day noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che sarebbe stato necessario concentrare le operazioni di voto proprio per consentire ai cittadini di sapere con anticipo quando sarebbero stati chiamati a votare e anche per ridurre i costi e perché no anche per ridurre l'interruzione dell'attività didattica questo è un tema che a noi sta molto a cuore e quindi diciamo anche a prescindere dal tema dell'assenzionismo credo che il Parlamento si debba seriamente impegnare per prevedere a sistema per mettere a sistema l'introduzione di seggi alternativi agli istituti scolastici perché non è più ammissibile che si dica agli studenti che debbano interrompere l'attività perché il paese deve votare quando ci sono tantissimi altri edifici che possono consentire di farlo chiudo facendo insomma un monito e anche un monito anche a tutti i colleghi a tutti noi insomma che ci dovremmo trovare ad intervenire a livello normativo per trasformare legge questa proposta e trasformare le realtà quello che ci chiedono i cittadini è una sburocratizzazione di tutte le attività e quindi necessariamente anche delle attività di voto io credo che questa sia una proposta che vada proprio in quel senso perché digitalizzare e rendere automatico e a sistema la possibilità di poter votare al di fuori del comune di residenza e in alcuni uffici di prossimità come possono essere gli uffici postali va senz'altro in questa direzione sicuramente ci sono degli ostacoli che bisogna che a mio avviso come ha detto lei non sono insuperabili insormontabili che bisogna superare uno tra tutti è stato sollevato e quello della necessità di prevedere ad un tipo di stampa differente rispetto a quello a cui siamo abituati concludo Presidente chiedendo facendo una domanda al Ministro volevo sapere sulla base delle proposte che sono all'esame della Commissione che credo voi abbiate analizzato come Commissione tecnica perché avete deciso di optare per il voto anticipato presidiato piuttosto che per tutte le altre proposte opzioni già inserite in testi normativi all'esame della Commissione grazie grazie a lei Di Maio grazie Presidente mi unisco intanto ai ringraziamenti al Ministro per questo lavoro a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo libro bianco che è certamente uno strumento molto utile di discussione faccio rapide considerazioni considerato appunto che alle 14 inizia l'aula allora intanto credo che sia importante questo può sembrare un vezzo però se riusciamo a individuare dei termini presi dal nostro vocabolario per individuare diversi strumenti penso che possa aiutare ma fatta questa premessa lessicale il Green Pass è stato uno strumento eccezionale è stato uno strumento che non si è messo diciamo del tutto al riparo da frodi e quindi chiedevo che tipo di si può rispondere in questi in questi brevi minuti che abbiamo che tipo di garanzie ci sono e sono state se sono state valutate nel concreto sul fatto che un eventuale election pass come è stato denominato possa avere appunto queste garanzie di assoluta impermeabilità abusi di questo strumento in proposito chiedo anche se è stata coinvolta o se ha avuto un ruolo e comunque in ogni caso penso sarebbe opportuno come commissione aggiungere anche questo soggetto tra quelli da udire ovviamente in tempi rapidi mi riferisco all'agenzia alla neocostituita agenzia sulla cyber security perché penso che questo sia un altro contributo importante al lavoro magari è già stata coinvolta ma non ho sentito la prima parte dell'intervento del ministro e meno scuso in tal caso voglio anche sottolineare che per quanto ci riguarda ovviamente il tema dell'astensione è un tema molto profondo che sicuramente in parte è derivante dalle modalità di voto sicuramente gli strumenti digitali possono aiutare noi pensiamo possono dare un validissimo contributo soprattutto su tutta la parte procedurale e burocratica mentre sulla parte dell'espressione materiale del voto l'idea di sostituirlo con un voto elettronico magari a distanza non ci troverebbe d'accordo ma ci manifesteremo parecchie perplessità e siamo sicuri di non essere da questo punto di vista gli unici però credo che nell'affrontare questo problema che è un problema peraltro anche di costi di procedure materiali quindi ad esempio l'anticipo del voto in sede presidiato secondo me è una buona è una buona soluzione così come la valutazione delle modalità di votazione al di fuori del proprio seggio naturale penso che anche questa sia una modalità importante soprattutto per capire materialmente come può essere svolta e soprattutto garantire la possibilità di votare anche a chi non ha delle condizioni di rientrare e si trova fuori dal proprio comune di residenza per motivi insomma non di turismo ma di vita nascente di vita e di lavoro voglio aprire una parentesi sul voto estero perché è citato in più aspetti soprattutto in relazione al voto per le elezioni politiche però credo che la digitalizzazione dei procedimenti soprattutto sul voto estero sarebbe molto importante perché ad esempio per i prossimi referendum sui quali noi dovremmo votare avremo spese per svariati milioni di euro per affrontare tutte le procedure tenendo conto che potenzialmente possono votare tutti gli italiani iscritti all'aere quando sappiamo perfettamente che non votano tutti questo ovviamente comporta spese enormi con una bassissima partecipazione forse il primo punto sul quale si potrebbe sperimentare dal punto di vista delle procedure non dell'espressione di voto lo sottolineo una forte spinta sulla digitalizzazione è proprio quella del voto estero perché oltre diciamo agli aspetti tecnici ci sarebbe un notevole e considerevole risparmio di tempo e soprattutto di denaro quindi d'accordissimi anche d'accordissimo anche sulla individuazione di un giorno dedicato alle elezioni stabilito in anticipo salvo diciamo eventi non prevedibili tutto questo credo si debba accompagnare a una robusta rivisitazione del nostro sistema istituzionale ma non è oggetto della nostra discussione quindi lo cito solo come titolo ringrazio anch'io per il contributo ma sono certo che non sarà l'ultima volta in cui avremo occasione di confrontarci su questo grazie grazie a lei allora colleghi siccome avevamo detto all'inizio un collega per gruppo e poi se c'è tempo facciamo gli altri interventi abbiamo Giorgis Siragusa e Fontana e poi se c'è del tempo facciamo intervenire anche la collega Frate e la collega Madia prego Giorgis grazie innanzitutto un grazie sincero al al ministro d'Inca e alla commissione che ha prodotto questo a mio avviso prezioso contributo che il nostro paese e purtroppo gran parte dei paesi europei registri un calo dell'affluenza al voto della partecipazione politica che si manifesta nel momento del voto è un dato costante ed è un dato che deve preoccuparci ci deve preoccupare come giustamente la ricerca mette in luce perché una progressiva diminuzione del numero di elettori rischia di indebolire la forza delle istituzioni democratiche e indebolire la forza la legittimazione delle istituzioni democratiche significa renderle meno capaci di esercitare quell'azione di governo e di protezione dei cittadini che regge come dire il complessivo impianto istituzionale quindi da questo punto di vista occuparci di come rendere l'esercizio del diritto di voto più facile cercare di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono o ne rendono più difficile l'esercizio significa in realtà o comunque in ultima analisi occuparsi dei problemi concreti reali delle persone non stiamo parlando d'altro rispetto al problema della crisi economica non stiamo parlando d'altro rispetto al problema delle crescenti disuguaglianze non stiamo parlando d'altro rispetto alle questioni più concrete e più attese da parte dei nostri concittadini e io penso che sottolineare questa prospettiva di analisi e questa prospettiva come dire di interessamento al problema sia necessario proprio per dare il senso dell'urgenza della questione il lavoro è un lavoro devo dire che conferma quella che è una preoccupazione avanzata in questi ultimi anni da diverse forze politiche a partire dalle proposte che sono state depositate e che lei giustamente ministro ha ricordato noi come periodemocratico con una proposta a prima firma dell'onorevole marianna madia abbiamo cercato di sollecitare una discussione e una regolazione che appunto rimuovesse ostacoli materiali ostacoli in alcuni casi sì diciamo prevalentemente materiali all'esercizio del diritto di voto io quindi voglio credere che questo lavoro questo prezioso lavoro dia rinnovato impulso alla discussione delle proposte che sono state avanzate dia ulteriore impulso al procedimento legislativo che io credo possa compiersi anche se abbiamo come dire pochi mesi a disposizione prima che la legislatura termini e possa quindi aiutare a fare sì che a partire dalla prossima legislatura a partire dalle prossime tornate elettorali qualche ostacolo sia stato rimosso e qualche proposta che io credo sia matura possa trovare attuazione perché e concludo con questa considerazione l'analisi che viene svolta nella ricerca che lei oggi ci ha presentato e le proposte che vengono avanzate mi sembrano trovare una conferma seppur con parole diverse nelle proposte che sono state avanzate dalle diverse forze politiche sottolino a questo aspetto per dire che probabilmente c'è una condivisione possibile e ci sono le condizioni non solo politiche ma anche amministrative pratiche per far fare al nostro ordinamento legislativo un passo in avanti e il fatto che questa ricerca e queste proposte provengano da un ministero e provengano quindi dal governo io penso possa aiutare anche a superare quelle difficoltà pratiche che negli anni passati sono state manifestate dal ministero degli interni e che hanno in qualche modo io credo contribuito a rallentare l'iter legislativo delle proposte depositate il fatto che adesso vi sia un'analisi molto molto accurata e vi siano delle proposte che tengono conto anche dell'esperienza di altri paesi e quindi della fattibilità di certe soluzioni io credo possa contribuire non solo a rinvigorire le condizioni politiche per l'approvazione dei disegni di legge ma rafforzare anche la disponibilità da parte del governo a definire soluzioni pratiche attuative che siano conseguenti alle proposte di legge e alla discussione e alle soluzioni normative che noi io credo a breve da quello che ho sentito mi sembra che tutte le forze politiche siano molto determinate discuteremo e spero riusciremo ad approvare grazie collega Giorgis la collega Siragusa da remoto prego grazie presidente grazie ministro d'Inca per questo intervento io voglio dire che sono molto d'accordo su quanto ha detto la collega Baldino penso che nessuna riforma possa in realtà sul ridurre l'astenzionismo si possono certamente ridurre al minimo gli ostacoli che impediscono le persone che vogliono votare di votare ma l'astenzionismo ha radici più profonde appunto in un disaffezionamento alla politica ai partiti all'idea che alla fine qualsiasi cosa si vota non cambia mai niente questa quindi è una riflessione che deve essere fatta della politica e non è tanto una riforma io nel mio intervento vorrei un attimo concentrarmi su un tema che ha sollevato che è quello dell'astenzionismo apparente che riguarda appunto il voto degli italiani all'estero e sono d'accordo col collega Di Maio la digitalizzazione dovrebbe partire all'estero perché lì ci sono i maggiori problemi e ci sono le maggiori criticità tra l'altro proprio all'estero abbiamo sperimentato l'anno scorso il voto elettronico con le elezioni del Comites e proprio all'estero ci sono appunto le grandi criticità proprio oggi abbiamo avuto in audizione il ministro Di Maio in giunta per le elezioni banalmente io come elettore all'estero quando invio al di là di tutte le criticità che ci sono io quando invio la mia busta io non ho nessuna certezza che la mia busta arrivi a destinazione perché non essendoci un tracciamento delle buste non essendoci un software che mi dica il tuo plico la tua scheda elettorale è stata ricevuta sostanzialmente si rilasciano i voti ma non si sa se effettivamente verranno contati e nel tema per quanto riguarda l'assenzionismo apparente uno dei temi sollevati è proprio quello dell'incidenza dei cittadini aeree e io voglio fare solo due esempi che ho preso dal rapporto degli italiani nel mondo allora tipo Castelnuovo di Conso in provincia di Salerno al primo gennaio 2020 c'erano quasi 2.900 iscritti all'aeree e solo 602 residenti eh Acquaviva di Platan in Catanissetta 2.500 residenti all'estero contro 900 residenti territoriali quindi è ovvio che abbia un'incidenza qui stiamo parlando di un'incidenza del 300% del 500% e questo influisce l'abbiamo visto anche in giunta per le elezioni anche su quello che è magari quorum di certe elezioni come possono essere il referendum e proprio la commissione nel libro bianco a un certo punto solleva questo tema e dice valutare verificare la possibilità di misure normative più rigorose per la concessione della cittadinanza italiana ai residenti all'estero perché sollevo questo punto? Perché credo che sia un punto importante che la commissione affari costituzionali debba tenere in conto anche perché proprio in commissione affari costituzionali stiamo trattando la riforma della cittadinanza e quindi sarebbe un'occasione sprecata non andare a introdurre delle modifiche anche per quanto riguarda la cittadinanza data ai residenti all'estero visto che da più parti sta venendo fuori questo tema sia in giunta per le elezioni sia la commissione appunto sul contrasto all'assenzionismo e poi volevo fare una domanda allora si parla dell'election pass di questo QR code ma io mi chiedo se le cose non possono essere fatte in maniera molto più semplice magari con delle soluzioni software che prendano ad esempio abbiamo la carta di identità elettronica invece di andare a inserire nuova tecnologia quando abbiamo già degli strumenti che magari con una gestione software con dei programmi potrebbero offrire le stesse soluzioni ringrazio collega Fontana e poi diamo spazio al ministro sì grazie presidente ringrazio innanzitutto il ministro perché con questo lavoro ci ha imposto una riflessione su un problema che sicuramente è molto vasto come hanno detto i colleghi è giusto da fare qualche riflessione perché non è certo il merito delle audizioni che stiamo facendo in questo momento ma guardando quel grafico dal 48 ad oggi sicuramente dovremmo approfondire una riflessione anche dal punto di vista costituzionale cioè come conciliare dal 48 ad oggi come conciliare questa curva verso il basso dei cittadini che vanno a votare con quello che è previsto dalla costituzione cioè che il voto è un dovere civico ma anche ma anche dal 48 ad oggi che il fatto che si vada poco a votare è un qualcosa che è connaturato nelle democrazie mature cioè non è un qualcosa di solito il 90% si vanno a votare nei regimi autoritari ecco quindi occorre fare una riflessione per in altra sede sicuramente per cercare di capire bene anche la storia e l'adeguamento anche a livello costituzionale di questi due problemi perché io penso ripeto che ci sia anche da fare una riflessione su questo sul fatto che ripeto nelle democrazie mature votano meno cittadini perché non c'è il problema che poteva esserci nel 48 quindi e questo fa parte delle ragioni e della valutazione sull'astensionismo in generale nello specifico noi ci occupiamo dell'astensionismo involontario perché del resto ci saranno altri luoghi per ragionarci sopra e allora sicuramente le proposte che alcune proposte che vengono vengono illustrate in questa relazione sono sicuramente interessanti e sono quelle che vanno a rimuovere gli ostacoli burocratici che sono all'origine dell'astensionismo involontario e sicuramente la semplificazione della tessera elettorale e di pensare ad arrivare a un meccanismo di tessera elettorale digitale è sicuramente un passo importante che semplifica la vita degli elettori sicuramente la questione dell'election day sicuramente l'election day l'accorpare e mi dispiace adesso c'è anche un caso di attualità magari rendere possibile in più giorni l'esercizio del voto è sicuramente una cosa che forse per esempio in questo caso sarebbe stato meglio fare nel caso delle prossime elezioni quindi consentire il voto anche di lunedì perché il fatto di avere più giorni a disposizione aiuta a rimuovere l'astensionismo involontario ed è un dato decisivo questo mi dispiace che non sia stato ascoltato questa proposta nella decisione che è stata presa ieri dal governo ma sicuramente anche un altro elemento di cui abbiamo avuto purtroppo contezza negli ultimi tempi è stata quella del voto dei seggi volanti a domicilio assunte iniziativa assunta per fronteggiare la questione covid ma sicuramente da quella esperienza si può trovare il modo per di fatto permettetemi il termine di abbattere le barriere architettoniche che costringono come è stato illustrato nella relazione magari anziani non autosufficienti e persone che hanno una mobilità ridotta a non a poter esprimere il loro voto quindi questa è una strada tra l'altro già in parte esplorata che può essere rafforzata e quindi poi c'è il problema dei fuorisede il problema dei fuorisede è un vecchio problema ma dai dati tra l'altro della tabella 12 si evidenzia che è un problema c'è e sicuramente dobbiamo fare in modo di trovare la soluzione ma comunque è un altro punto a livello percentuale limitato perché se è vero che praticamente solo da questi dati poi a volte si sono anche dati diversi perché si tratta di sono stime queste non sono dati precisi come possono essere i dati di un'elezione quindi il voto dei fuorisede sicuramente è una questione che può essere risolta può essere si può trovare una soluzione ma io sono forse perplesso ma comunque andranno approfonditi i requisiti attraverso i quali poter chiedere l'accesso di questo voto e io rimango comunque dell'idea anche dal punto di vista organizzativo e qui sarebbe interessante sentire cosa dice l'organizzatore di tutto il processo elettorale del Ministero dell'Interno la stampa di schede di tutti i comuni d'Italia che vanno al voto in giro per l'Italia e la garanzia della segretezza della personalità e della libertà del voto mi lascia un po' perplesso ma comunque è una cosa che va approfondita la cosa più semplice è far votare non nelle comunali ma sicuramente referendum europee politiche i cittadini dove si trovano in quel momento domiciliati con la tessera con la tessera digitale sarà sicuramente più facile questi sono comunque elementi di riflessione e mi fa piacere che nella relazione piuttosto corposa che è stata fatta la questione del voto elettronico sia stato rimandato e diciamo risolto in una pagina di rimando proprio perché la questione del voto elettronico a differenza di quello che si diceva da più parti non è una questione così semplice c'è una necessità di approfondimento che deve essere fatto e quindi non è una questione che si deve affrontare con facilità di soluzione e quindi ben venga l'approfondimento e ben venga che responsabilmente il governo stia facendo tutti gli approfondimenti rispetto a una questione che deve essere valutata e affrontata con maggiori certezze rispetto a quello che ci sono grazie prego ministro d'Inca sette minuti per la sua replica l'aula incombe sarò veloce presidente ringraziando tutti i colleghi che sono intervenuti perché mi hanno permesso di poter riflettere sulle loro considerazioni sulle loro domande e per cui veramente è un momento di confronto importante che spero potrà continuare nelle prossime giornate e nelle prossime settimane per arrivare credo diciamo insieme ad un percorso condiviso che credo che possa in qualche maniera portare gli elementi contenuti all'interno del libro bianco ad essere utilizzati già per le prossime elezioni politiche del 2023 cosa che in qualche maniera auspico per permettere a tutte queste persone che abbiamo prima individuato in milioni di nostri concittadini di partecipare al voto detto questo io prima ho inserito appunto ho percepito dalla collega Baldino l'importanza essendo lei stata appunto una diciamo un'elettrice una studentessa fuori sede le difficoltà che appunto sono intervenuti nel processo di votazione in qualche modo noi siamo arrivati e voglio appunto rispondere alla Baldino sulla domanda per quale motivo siamo arrivati al voto presidiato anticipato nel senso che abbiamo fatto un'analisi chiaramente delle vostre proposte abbiamo individuato che in qualche modo occorreva mettere insieme delle esigenze contenute all'interno delle vostre proposte e in più in qualche maniera riflettere a livello generale quindi in qualche modo secondo noi il voto presidiato accoglie le dinamiche da voi inserite all'interno delle vostre proposte ma in qualche maniera le amplifica mettendo insieme anche le difficoltà di chi ha difficoltà motorie e dall'altra parte appunto delle persone che sono fuori sede quindi in qualche modo crediamo che possa contenere insieme che possa essere un punto di arrivo comune poi insomma in qualche maniera troveremo poi gli strumenti legislativi per poter lavorare insieme come tra l'altro abbiamo fatto anche e vi ringrazio perché alla base del nostro confronto è venuto anche in maniera informale durante dei passaggi che abbiamo voluto prima della presentazione del libro e io credo che si possa effettivamente fare un grande lavoro armonico tra tutti i gruppi diciamo che sono appunto rappresentativi del Parlamento senza appunto individuare maggioranza o deposizione altro tema che è inserito da parte del collega Di Maio è riguardante le garanzie per quanto riguarda l'election pass per chi appunto è digitale io credo che in qualche maniera in questo momento ne abbiamo fatto alcune proposte confrontandoci sia con appunto il Ministero per per l'innovazione digitale il quale ha appunto indicato come già vi sono alcuni finanziamenti che all'interno del PNRR poter andare in questa direzione quindi troveremo sicuramente la modalità tecnica di poter far sì che il sistema digitale corrisponda diciamo a tutta la sicurezza richiesta come del resto anche all'interno dell'election per quanto riguarda il Green Pass quindi una strumentazione simile tra l'altro un sistema di utilizzo quello del Green Pass che normalmente ne utilizziamo ogni qualvolta saliamo su un aereo quindi con una condivisione di chi è la persona attraverso un elemento che è la carta di identità e poi attraverso la gestione di quello che è diciamo la dimostrazione del Green Pass quindi troveremo una modalità che permetta la massima sicurezza e tra l'altro individueremo questo anche attraverso l'aiuto appunto dell'Agenzia della Cyber Security che nel nostro paese ha preso spunto grazie al lavoro di questa legislatura e quindi al confronto tra governo e Parlamento per quanto riguarda poi il voto all'estero è un tema quello digitale del voto all'estero il quale credo che dovrebbe intervenire a mio parere come abbiamo detto all'interno per tutta la parte digitale del voto sul voto elettronico credo che il Ministero degli Interni attraverso la commissione appropriata ci darà una definizione corretta per quanto riguarda le sue valutazioni abbiamo appunto per questo motivo lasciato a questa commissione che sta già operando darci le dovute indicazioni al collega Georges chiaramente anch'io ritengo che che la nostra proposta di Lua Bianco debba dare un impulso il tema dell'assenzionismo riguarda il nostro paese e dobbiamo in qualche maniera lavorare in comune per poter accelerare quindi mi auguro che da questa audizione in poi si apra un confronto serrato che ci permetta attraverso il confronto costante in maggioranza e con l'opposizione insieme di poter operare i passaggi necessari per arrivare diciamo a una formulazione che ripeto già nel 2023 possa essere utilizzata e quindi dia frutto e permetta di invertire quel grafico che a mio parere invece è un grafico che ha una costante discesa verso una diminuzione della partecipazione al voto la collega Siracusa che è in collegamento molto importante la riflessione su quei comuni indicati anch'io stesso ho preso ad esempio un comune in questo caso la mia provincia di appartenenza a Belluno un paese piccolo soverzene che conta 364 abitanti di fatto ma gli iscritti all'aere sono 921 quindi rappresentano il 252% delle persone che abitano in quel paese è chiaro che con i sistemi normali era molto molto complesso poter diciamo superare il quorum nel caso soprattutto insomma della presenza di un'unica lista siamo intervenuti sia con l'ultimo decreto legge per quanto riguarda le elezioni ma poi insomma vi è appunto la proposta di Deja Gussori e credo che in qualche maniera si dimostri come il nostro crescente aumento appunto indicato anche attraverso pagina 12 per cui siamo passati di schitellaere da 2 milioni 353 mila dal 2001 ai 5 milioni 486 mila nel 2020 dimostra che in qualche maniera dobbiamo cercare di far sì che queste persone che in qualche maniera si legano al nostro paese da un certo punto di vista possono diciamo essere considerate con correttezza all'interno diciamo sia dell'astenzionismo generale sia soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni dove rappresentano in alcuni casi ben oltre il 50% della popolazione altro tema importante è che chiaramente siamo aperti anche sempre rispondendo alla collega Siracusa a diciamo ulteriori utilizzi come appunto la carta di vita elettronica però riteniamo che insomma in qualche modo lo sviluppo e poi se serve andremo sull'aspetto tecnico attraverso appunto il ministero per l'innovazione digitale andremo a verificare diciamo le motivazioni dell'utilizzo di uno strumento che è del tutto simile a quello utilizzato per il green pass e che ha dato diciamo un ottimo utilizzo anche sotto il profilo insomma della comprensione ai nostri concittadini per rispondere al collega Fontana è vero che c'è un adeguamento storico delle curve in tutte le democrazie mature e diciamo la partecipazione al voto probabilmente in diminuzione in tutta questa parte del mondo democratica che è abbastanza ampia ma chiaramente non raccoglie tutti quanti i paesi del mondo quindi abbiamo questa grande fortuna di difendere la nostra democrazia attraverso la carta costituzionale ma detto questo non è detto che in qualche modo abbiamo visto dal 93% siamo scesi passo dopo passo fino al 72,8% per le politiche ma non vuol dire che non scendiamo al 65% per le politiche al 60% al 50% e scendiamo più sotto ancora e la nostra visione non deve essere semplicemente a mio parere temporanea per la nostra presenza nelle istituzioni che noi conosciamo perfettamente ma anche nella nostra presenza diciamo in vita nel nostro paese io mi auguro che possiamo parlare di democrazia e questa sia la Camera dei Deputati nel 2.222 insomma che possiamo avere cent'anni davanti e ancora di più insomma di continuare su questo abbiamo una riflessione diversa ma detto questo mi auguro che vi sia una partecipazione al voto e che possa in qualche maniera essere costante nel tempo e anzi insomma poter invertire questo percorso penso che sia un obiettivo comune da parte di tutte le persone che sono intervenute e che ringrazio e in qualche modo ritengo importante continuare più o meno di tutto da parte del Governo nell'ascolto delle indicazioni da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera e del Senato e diciamo di un lavoro comune che ci porti ad un risultato che è quello di poter avere una partecipazione al voto costante e crescente nel tempo e che in qualche maniera individui nel nostro Paese uno dei primi Paesi al mondo ad affrontare questa problematica con grande maturità e con comprensione che sta fatta attraverso le persone che hanno collaborato in questa Commissione che mi permetto visto che alcune persone sono state ricordate precedentemente sono da Franco Bassanini che voi conoscete ordinario di diritto costituzionale Adriana Apostoli che è ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Brescia il professor Giancarlo Balangiardo presidente dell'Istat la consigliera Cristina De Cesa del servizio studio della Camera dei Deputati il consigliere Paolo Donzelli del Dipartimento per la trasformazione digitale della presenza del Consiglio dei Ministri il professor Paolo Feltring associato di scienza della politica metodologica della ricerca la dottoressa Alessandra Ferrara ricercatrice dell'Istat il dottor Antonio Floridia già presidente della società italiana dei studi elettorali la professoressa Elisabetta Lamarca associato a diritto costituzionale all'Università di Coca di Milano il professor Leonardo Morlino in merito di scienza politica dell'Università Luiz il profetto Fabrizio Orano direttore centrale per servizio elettorale del Ministero dell'Interno il professor Lorenzo Spadaccini associato a diritto pubblico all'Università di Brescia il consigliere Marco Caputo capo di gabinetto del Ministero della Porta con il Parlamento la dottoressa Di Giambattista L'Orella capo del settore legislativo sempre del Ministero per la Porta con il Parlamento la consigliera Silvia Paparo capo dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il vice capo di gabinetto Simone Neri oltre chiaramente ringrazio l'aiuto di tutti i funzionari del mio Ministero per il grande lavoro svolto e tutte le persone che in qualche maniera hanno contribuito con idee e desiderio al rispetto della nostra Costituzione grazie grazie a lei mi unisco ai ringraziamenti di tutti questi professionisti che hanno contribuito all'elaborazione di questo libro bianco la ringrazio per la sua disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione bene